Amici miei, hanno governato per vent'anni sinistra e destra, hanno ridotto Cerignola in queste condizioni, adesso in campagna elettorale ci insegnano tutte le cose che faranno. Se voi darete loro il voto, la mia domanda è semplicissima, perché non le avete già fatte destra e sinistra? La verità è che siete degli incapaci, nella migliore delle ipotesi, per cui questa volta dovete andare a casa, perché la coalizione del cambiamento farà piazza pulita. Dovrei fermarmi qua, ma facciamo insieme un minuto di silenzio in memoria della lista di Gerardo Valentino e Claudio Di Lernio che non è stata ammessa, perché la lista non l'hanno saputa nemmeno presentare. Figuratevi se questi con il loro candidato bambino potrebbero governare Cerignola. Grazie a tutti. Grazie a tutti.